ciao ragazzi benvenuti o bentornati sul canale di giomatto e sulla nostra immancabile ss 65 ragazzi e non mi dite sempre ma stai sempre in lago perché ieri siamo stati passo della castrello e passo del cerreto quindi oggi immancabilmente bisognava tornare sulla futa sperando sperando che i nostri companielli se la siano presa di festa senza quindi trovare loro immancabili 1500 blocchi come dice sempre giomattarello riscaldate bene le gommette prima di usare perché se la mette calda e fredda anzi non vi può supportare ragazzi altra cosa iscrizione al canale iscrizione al canale io ogni settimana pubblico video premiate la costanza tanto non si paga non si paga è libero! è libero! è libero! allora la �� vi informiamo signore e signori che questo semaforo è stato pittato rosso quello che si è fatto verde Franco si è proiettato avanti approfittando del semaforo malandrino di un Franco, malandrino di un francuccio grazie a tutti 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 grazie a tutti